Raga, per tutto? No amico, mi sta esplodendo la faccia. Labbra esplose e mento che sta esplodendo. Per tutto? Raga, aspettate un attimo. Ma raga? Ma lo sapete che se vi si scarica il telefono non dovete buttarlo via. Dovete usare il carichino. È stato inventato apposta. Poi, al posto di andare a cercare in giro per la casa durante la notte, e non dovete, mica dovete aspettare che faccia giorno. Esiste sta cosa? Questa cosa qua? Questa qua? Chiamata luce. Mamma mia. Non lo sapevo. Terza cosa. Voi dite, vabbè, come faccio io a mangiare? Come faccio io a mangiare? Non è che deve trovesciare tutto per terra? O nel tavolo? Esiste la cosa chiamata piatto. Wow, che scoperte! Seguitemi se ne volete altre. Avete capito? Oh!